Buonasera a tutti e benvenuti a Zona Franca. Questa puntata il nostro ospite sarà un 34enne di Grottaie. È un personaggio con varie doti artistiche, è un musicista, un cantante, un attore, un regista, uno sceneggiatore e un fumettista. È con noi Valerio Manisi. Buonasera Valerio. 34enne. Quanti anni hai? 24. No bugia, sono 34, vabbè, ma non è importante. Mi hai fatto rimanere di ghiaccio, ho temuto per due secondi di aver fatto una gaff. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, Valerio è un talento del nostro territorio e va portando l'arte per il nostro territorio. Inoltre cerca di far conoscere e valorizzare tutti i nostri luoghi. È vero Valerio? Beh, diciamo sì che ho sempre tentato di inserire nei lavori che ho fatto il territorio. Sicuramente non è mai mancato da un punto di vista visuale e musicale. Quindi sì, è vero. Non è mai mancato, non è mai mancato. Allora, Valerio è il fondatore della Compagnia del Teatro Ionico Salentino e il leader del canzoniere Pizzicati in Tralucore. Inoltre, il 5 luglio scorso è stato presentato nella cattedrale dell'Isola d'Ischia il suo ultimo lavoro, Vivi la vita, che è uno short film girato a Grottaie in tutta la provincia di Taranto e che ha visto protagonista Alvaro Vitali. Allora, Valerio, raccontaci un po' questa tua ultima esperienza e come mai hai scelto proprio Alvaro Vitali? Come è avvenuto il vostro incontro? Allora, l'esperienza inerente al festival è stata sicuramente un'esperienza spettacolare da diversi punti di vista. Prima di tutto perché ci siamo confrontati seriamente con gli addetti ai lavori del cinema. E poi la bellezza di questo momento è stata amplificata anche dal posto, perché, come dicevi tu, l'evento, la proiezione del film si è tenuto nella cattedrale dell'Assunta proprio nel castello aragonese dell'Isola d'Ischia. Ed è stato un momento bellissimo perché il luogo è affascinante, c'è una panoramica interessante. Poi per noi è stato come superare un esame importante perché lì è un momento di incontro con tanti registi, attori già affermati. Ed è stato veramente un momento spettacolare, bello. Per quanto riguarda il coinvolgimento di Alvaro, quando poi parecchi avranno l'opportunità di vedere il film, potranno capire che racconta la storia di un uomo con esperienza, con rancori e questioni non risolte, questioni insospese del passato. E quindi Alvaro Vitali ci sembrava, o perlomeno mi sembrava, nel momento della scrittura, l'attore che potesse interpretare meglio questo ruolo, perché lui ha raccontato in televisione alcuni aneddoti della sua vita, alcuni belli, altri spiacenti, però è la conformazione fisica anche sua che si adattava, secondo me, al personaggio, perché lui è magrolino, scarno, abbastanza fragile, sembra quasi come immagine. Quindi si adattava bene al ruolo che volevamo dare al personaggio di Vivi la Vita, al protagonista. Vivi la Vita, se non sbaglio, ha una morale, cioè il vivere appieno la vita che è breve, senza rimpianti. Qual è il momento più bello della tua vita? Io spero che debba ancora venire il momento più bello della mia vita, anche se ce ne sono stati già tanti, tipo quando, credo, per amore del padre ha vinto un premio come migliore sceneggiatura ad un festival in Sicilia, oppure quando ci diciamo era tra i candidati alle targhe Tenko qualche anno fa. Quindi tante altre cose che mi vengono in mente, però il momento più bello, come l'opera più bello, spero sempre che debba venire. Tu ami molto la tua cittadina Grottaglie, dal punto di vista artistico, culturale, Grottaglie, secondo te come risponde agli eventi appunto culturali che le vengono comunque presentati? Tu non ci mai fai queste domande, Gabriella. Però senti, no, io penso che comunque Grottaglie è una tradizione artistica non indifferente, storica, soprattutto da un punto di vista artigianale, pittorico, scultorio, perché comunque la ceramica, nonostante sia una tecnica additiva, è comunque una tecnica scultoria, additiva, non sottrattiva, però ha una importante a questo punto tradizione scultoria sottrattiva o additiva? No, additiva credo, no? Sottrattiva è quando togli, quindi scalpelli, additiva. Vabbè comunque è una tecnica di scultura abbastanza antica e ce l'ha Grottaglie. Da un punto di vista teatrale il suo bel movimento l'ha avuto, da un punto di vista popolare, basta pensare agli amici del piccolo teatro di Grottaglie e il mio carissimo amico, il professore Pier Gianni. Però ci sarebbe tanto da dire e non mi va di rovinare l'intervista che sicuramente sarà bella. Allora la giro un po' come domanda, tu comunque ami tanto Grottaglie, lo si capisce, però qual è la cosa che più ti infastidisce e la cosa che invece più ti fa sorridere? La cosa che più mi infastidisce sono i Grottagliesi e la cosa che più mi fa sorridere e amo sono i Grottagliesi, quindi non posso si equivale con l'altro. Spiegaci meglio questa cosa. Nel senso che comunque per me Grottaglie è fondamentale, è casa mia, sono nato qua, e la mia terra rappresenta la mia tradizione, una tradizione che oltretutto nasce in me proprio dalla mia famiglia, perché comunque mio nonno è stato quello che ad esempio mi ha tramandato l'amore per la tradizione, per la musica popolare. Alla fine quando tu vivi in un contesto che è il tuo, quando cominci a non sentirlo più tuo, magari diventa leggermente fastidioso, però è la storia penso di ognuno di noi. Una cosa credo che la si ami appieno, quando nel momento dopo la si odia, poi la si riama e la si odia. È un ciclo penso della vita, è normale che sia così. Come per tutto vale così anche per Grottaglie, credo, per quanto mi riguarda, però resta sempre il mio paese, casa mia. Che cos'è per te la libertà? La libertà secondo me innanzitutto, la libertà è scambiare informazioni. Per me la libertà è questa qua. Nel senso che qualsiasi argomento uno voglia trattare deve farlo sempre con chi ne sa più di lui. E viceversa. La libertà secondo me è questa qua, poter scambiare informazioni in modo libero e pacifico. Quando un'informazione viene imposta, in quel momento si perde la libertà. Io credo che si possa partire tranquillamente da questo concetto. Allora, noi abbiamo accennato giusto in maniera generale un po' dei tuoi successi, un po' dei tuoi lavori. Però il tuo curriculum è molto vasto. Vorrei che scendessi un po' nel particolare e raccontassi alle nostre telecamere quali sono le tue muse ispiratrici. Una la tieni di fronte, sicuramente. Vabbè, chiaro... No, Roberta, più che la mia muse, Roberta Bria che ha curato anche le scenografie nel film, come in tutti i lavori teatrali che facciamo, non la definisco la mia muse ispiratrice, ma semplicemente il supporto su tutto quello che faccio. Perché se non ci fosse lei, forse non si sarebbe realizzato nulla. L'ispirazione, come per ogni artista, o per ogni artista, oppure come chiunque si crede tale, poi alla fine sono gli altri a dirlo, parte da qualsiasi esperienza e da qualsiasi situazione che si vive nella vita. Ad esempio, per quanto riguarda il film Vivi la vita, l'ispirazione l'ho avuta quando è morta la mia nonna materna. Perché per me è stata come una seconda mamma, quindi quando l'ho vista lì morta, è chiaro, i morti a un certo punto non reagiscono più, essendo tali. Mi sono reso conto che il tempo è passato e quello che non ho fatto non lo potevo più rifare. E non lo potrò mai più rifare. A meno che, come qualcuno dice, c'è un al di là, magari poi ce la rivediamo là. Però per il momento è un tempo passato che non si ridiscute più. Quello che è stato, è stato. E quindi le ispirazioni nascono da questo. Siamo, ad esempio, è nato in riferimento alla questione ambientale di Taranto. Sono morto e non mi ero accorto, è nata perché io anni fa ebbi un malinteso con le forze dell'ordine. Pensavano che io e un altro ragazzo eravamo stati a fare una rapina, però ovviamente non eravamo stati noi. E da lì mi è nato il pensiero che se fosse andato storto qualcosa, magari noi ci saremmo fatti un anno di carcere, due anni di carcere da innocenti. E quindi da lì è nato, sono morto e non mi ero accorto, ma così per amore del padre, c'è nisi tu, eccetera, eccetera. C'è un personaggio famoso, comunque un tuo faro illuminante, diciamo, no? Un qualcosa che tu prendi come prototipo, come esempio, un personaggio che vorresti ringraziare in qualche modo? Io ho sempre detto che due spettacoli avrei voluto vedere nella vita, mi sarebbe piaciuto vedere nella vita, cioè avrei speso qualsiasi somma, dopo Uzzorrava ovviamente, per vedere questi due spettacoli. E uno era Napoli milionari al San Carlo di Napoli, perché è stata l'unica commedia di prosa che il San Carlo, a quanto pare, abbia consentito, perché il San Carlo è storicamente un teatro lirico, e il concerto di De Andrea al Brancaccio del 1996. Questi sono i due spettacoli che io avrei voluto proprio vedere dal vero, perché rappresentano due punti di riferimento per me, sia per il teatro, quindi parliamo di Edoardo De Filippo, e De Andrea dalla parte musicale, però è chiaro che intorno a loro ci sono tantissimi altri, non tantissimi, tanti altri che rappresentano un punto di riferimento per me. Allora Valerio, che cosa vorresti fare da grande? Penso che, ormai si è capito che credo, no? Hai intenzione di trasferirti un giorno, di lasciare grottaglie? Questo non dipenderà da me, non dipenderà da me, dipenderà appunto da quello che riuscirò a fare, per adesso non me ne sento di dire nulla, però io vado avanti. Allora noi possiamo concludere l'intervista, ti ringraziamo Valerio per l'accoglienza, e dobbiamo concludere con quella parola magica, lo facciamo insieme. Uno, due, tre, ciao! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!